La Regione Marche si identifica per una differenza varietale incredibile che in ogni territorio noi troviamo queste grandi diversità, ma soprattutto le troviamo anche in funzione di quello che è il territorio e di quello che il territorio come arte, storia, tradizioni può esprimere e quindi questo diventa ancora di più un rafforzativo. Qui siamo nella zona della Valdaso, stasera ho parlato anche della torre protagonale di Moresco che può diventare insieme all'olio prodotto qui un veicolo di turismo importante e significa anche valorizzare ulteriormente quel territorio.